no troppo lontano faccio la vita che ho trovato qua ciao ragazzi sto guardando decidendo dove andare questa settimana si è una settimana di tempo e me ne vado a un giro come al solito non riesco a stare qua più di tanto diciamo che andrò piuttosto vicino ma anche un po lontanino è sempre in Europa ovviamente voi intanto guardatevi le previsioni della prossima settimana che il tempo sta cambiando previsioni per la settimana prossima al nord in Lombardia nuvolosità diffusa su tutti i settori associata a locali piogge e piovigini sul Piemonte sull'Emilia Romagna e sulla Cania sul resto d'Italia cieli generalmente nuvolose su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana e sulle zone interne temperature minimi in aumento e massime in lieve calo direi che questo visto dove mi trovo è un libro che devo finire l'avevo già iniziato non so quanto tempo fa è si chiama il palazzo delle pulci parla di Istanbul sono a Istanbul avete visto ragazzi ma si è deciso di ritornare è un po' che non ci vengo e fate avanti a leggere questo libro che diciamo che visto dove mi trovo è abbastanza interessante qua il tempo è direi bello anzi fa abbastanza caldino anche non so mi sa che da noi non va tanto meglio ricordatevi comunque che su Chrome TV spende sempre il sole e assoggettatevi l'autunno cosa vi devo dire io non ci riesco ciao ciao